Ragazzi oggi mi sento carico, siamo contro la Juventus, saremo contro il Bologna in Coppa Italia però non lo so ma c'è qualcosa nell'aria che mi dice che faremo bene, magari so pazzo probabilmente nel frattempo ragazzi voi lasciate un bel like, una notizia in iscrizione per supportare la serie del canale io intanto mi vado a preparare la nostra formazione, quella primaria non c'è quindi prendiamo quella B Sì, benissimo, detto questo possiamo partire, allora in classifica siamo messi così così, 4 punti ancora per il Pescara, 13esimo, siamo in metà classifica dobbiamo vincere questa contro la Juventus come detto, sarebbe molto importante perlomeno non perdere, ecco non dico vincere la formazione c'è, perfetto, un buco, un pro per l'Egri davanti, Ronaldo Di Bala per la Juventus, bene, si inizia subito la grande andiamo a cambiare un attimo le divise, la Juve la lasciamo così, il Pescara magari lo mettiamo con la propria maglietta di trasferta ovvero quella verde, ragazzi ci siamo, calcio d'inizio, Juventus-Pescara a tra pochissimo per questa fondamentale partita e allora siamo pronti, siamo carichi, mi metto anzi anche in posizione da combattimento non sarà facile, sarà anzi molto difficile ma possiamo riuscire nell'impresa Rabiot allarga verso Olebas, il lancio verso Cristiano Ronaldo, Capasso prova a contrastare Aaron Ramsey attenzione a Matuidi, il francese avanza ancora per Ronaldo, meno male, subito fermato Jochef, oddio, Pellegri, fa volare, Lampro contro Demiral, Lampro contro Demiral, Lampro più veloce più veloce, non c'è però nessuno, non c'è, dov'è? Niente, Demiral, non ci casca, peccato ma siamo partiti però abbastanza bene, dai, 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 occhio qua, il contropiede, Ronaldo, Ramsey ancora alla ricerca del portoghese, ma c'è Jochef, Matuidi, Di Bala, si gira il tiro a giro bene, niente da fare quando siamo al nono minuto del primo tempo siamo alla mezz'ora del primo tempo ragazzi, la Juve fa la partita ma non è ancora riuscita a trovare la porta, neanche un tiro credo fino a questo momento, forse uno, sì, uno in porta capasso, Lampro, verso Pellegri, aspetta lo scatto proprio di Lampro, niente, Demiral è un match, è difficile, è difficile, riuscirà a passare Rabiot, l'indica per ancora Demiral Olebas per Rabiot, la palla esce, no, perché c'è Guarino che è un tiscio, bravissimo Jochef, Pellegri, aspetta lo scatto ancora di Lampro, può fare volare Mbuku, no, perché questo errore brutto, porca miseria, Ronaldo si gira, attenzione, mamma mia capasso, quanto è forte quest'uomo, bravo, Tuanzebe, Lumor, quadrato, Bentancur, se riusciamo a prendere palla c'è Quadrato che è avanti, potremmo ripartire con un contropiede micidiale, e infatti lo prendiamo, c'è Jochef, bravissimo verso Pellegri, si ferma, non era per lui, dobbiamo usciare di prima, eh che palle, però è sempre davanti questi su, porca paletta non so come mai Dybala fosse solo, sinceramente, in questo frangente, però era solo, dove era la nostra difesa non si sa, ma va bene, ci siamo, ce la siamo cavata grazie a Fiorillo, Dybala, ancora lui, la mette dentro, bravo, via, 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 Pellegri, Bugu, può partire lui, vabbè, vabbè, 0-0, andiamo a vedere un attimo le statistiche, 0 tiri per il Pescara, 3 tiri in realtà dalla Juve, 2 in porta, molto equilibrato il possesso palla, dobbiamo fare qualcosa di più, assolutamente, Pellegri, all'indietro per Guarin, Lampro, e Muschai, niente da fare, Matuidi, prende palla, Bentancur, ancora per Paulito, la gioia, verso Bentancur, quadrato, Bentancur, Matuidi, allarga per quadrato, quadrato, niente da fare, Bentancur, ancora lui, Dybala, attenzione, palla sul sinistro, c'è Guarin, meno male, Lampro, oddio, fallo volare, oddio, Bogo, Bogo, non puoi sbagliare, Bogo, sempre Bogo, ma sempre però, che palle, e ogni volta mi devono sbilanciare, oh, non ce sto a capire una mazza, Matuidi, ancora, c'è Guarin, bravissimo, fa partire Lampro, Pellegri, si gira, fa volare Mbugo, ancora una volta, Mbugo contro quadrato, Mbugo contro quadrato, vola, si appoggia a Lamprove, mamma mia prima, perché sono sempre in ritardo, mannaggia, rabbio, bravo, rabbio, complimenti, bravo, 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 dai, dai, dai ragazzi, dai, esce quadrato, ed entra Desciglio, Zappa, Guarin, ancora per Lampro, niente da fare, niente da fare, Lampro, niente, ah, difficile, Capasso, bravissimo, Lampro, ci dobbiamo avvicinare, chiede lo scatto di Pellegri, che si gira, spalla la porta, chiede uno, no, fallo, no, niente, quello è a terra, e continuiamo il gioco, è giusto così, uno è a terra, e continuiamo il gioco, Capasso, segue Ronaldo, attenzione, Di Bala, allarga Bentancur, ancora Bentancur, centralmente c'è Douglas Costa, bravissimo Capasso, ma chi è un muro umano, può fare volare adesso Pellegri, si gira, finalmente ha spazio per avanzare Pellegri, ma rabbio, incredibilmente, non si sa come riesce a recuperare, quando manca un quarto d'ora alla fine della partita Douglas Costa, la freccia nera, attenzione, Cristiano Ronaldo, Matuidi, Douglas Costa, Matuidi, questa regola, ragazzi, questo ho convinto che fosse gol, e beh, e beh, Memushai la batterà molto corta, immagino, bravo, per Zappa, ancora per Memushai, a spazio, potrebbe anche provare addirittura il cross Memushai, si gira, centralmente per Zappa, no, la regaliamo, Matuidi, ottima scelta, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, verso ancora Ronaldo, pallone alto nello spazio, lago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi, non troviamo, ah, fallono per noi, perfetto, non abbiamo neanche sofferto così tanto, però, Memushai, l'appoggia di Queen, bravo, Memushai, complimenti, Calcio di punizione per la Juventus, mamma mia, che ignoranza, ragazzi, che ignoranza infinita, che ignoranza infinita, Bentancur va a battere questo calcio di punizione, effetto a un passaggio lungo, Ronaldo verso Matuidi, Rabiot, Occhio d'Olebas, no, che fai, buh, meno male, Ciocef è tuo, bravo, Memushai, no, non c'è arrivato, oh, oddio, oddio, sembrano di cartapeste i nostri giocatori, rispetto a quelli della Juve, Capasso alla spazia, si va a prendere anche la rimessa dal fondo, grande Capasso, il migliore in campo sicuramente, del Pescara oggi, davvero degli interventi magistrali, del difensore centrale, Capasso ancora verso Zappa, il filtrante per Guarini, che può avanzare un po' di spazio, oddio, no, ma perché così, perché, vabbè, vabbè, Memushai, allarga subito, Bugu, no, Memushai, Ciocef, Guarini, sì, 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 siamo in recupero, Zappa ancora verso Lampro, va bene, ancora nostra, ancora nostra, c'è ancora un minuto, rimaniamo davanti, attenzione, sarebbe clamoroso, un furto, uno scippo incredibile, quell'ora riuscissimo a segnare, Guarini, centralmente per Memushai, niente da fare, è finita? Arbitro? Arbitro, eh, non faccio, vabbè, è finita, è finita, è finita, eh, ok, 0-0, un risultato abbastanza, accettabile per essere contro la Juve, per essere anche fuori casa, certo, abbiamo fatto un solo tiro, in porta, ma ci sta, ci sta, ci sta, contro la Juve, questo ed altro, bene, ora siamo di scena in Coppa Italia, contro il Bologna, può essere, un po', un attimo, non mi ricordo, contro chi siamo? Contro il Bologna, esatto, mi ricordavo giusto, andremo a caricare, la formazione principale, ovviamente, un po' l'ora riuscissimo a caricare, grazie, ce la facciamo, turno per capitolo 1, attenzione, cosa c'è qua? So che la prossima partita, non sarà passeggiata, ma dobbiamo pensare un po' al turno per, non possiamo scrivere sempre la formazione migliore, con tutti, vabbè, ovviamente lo facciamo già, però, l'unica domanda è, chi include lo scrivimento, dobbiamo pensarci meglio, cioè, queste cazzi, non riesco mai a capire, che senso abbiano, sinceramente, visto che, non hanno alcun senso, trattatevo, scognamiglio, perché si dica David, oh, scognamiglio, ce l'abbiamo, scognamiglio, squadra, nel senso, è titolare, da qualche parte, allora, attimo, intanto, qua carichiamo questa, dunque, qua non c'è, nella seconda, non c'è nemmeno, se non sbaglio, scognamiglio, giusto, carica un attimo la seconda, così ce lo leviamo, scognamiglio, esatto, perfetto, lo possiamo andare a vendere, ottimo, carichiamo la prima, ok, grazie scognamiglio, sarà con grande piacere, che tu te ne possa andare, ciao bello, dov'è, dov'è, scognamiglio, quanto ci offrono, oh, 180 mila, vabbè, accettiamo, quanto era di ingaggio, 300 mila euro, va bene, meglio di un calcio in bocca, come si suol dire, ok, andiamo verso la partita contro il Bologna, Coppa Italia, una competizione, in cui siamo particolarmente legati, cercheremo di fare del nostro noio, la formazione l'abbiamo già caricata, ci vediamo per il calcio di inizio di Bologna, Pescara ragazzi, è troppo pochissimo, allora, è tempo di tornare un attimo a vincere, vediamo un po', se per lo meno, in Coppa Italia, riusciamo ad andare avanti, Luperto, l'anno scorso, siamo arrivati in, la semifinale, può essere, qualcosa del genere, Simi, tiene palla, proprio, contro il Bologna, ma, Sciangelo, niente, non è riuscito a passare, neanche alla rimessa laterale, perfetto, siamo al 32esimo, ragazzi, il Bologna, al momento in possesso palla, Soriano, il lancio perfetto per Crasci, insomma, tanto perfetto, non è perché il pallone esce, di molto, un po' lunga, un po' lunga, Martínez, va subito a, passare la corte, verso Araújo, un Pescara, che ha avuto, poche occasioni, così come il Bologna, una partita abbastanza, equilibrata, come spesso accade, in questo gioco, Nico Williams, Yusupov, sbaglia il passaggio, Santander, attenzione Soriano, il filtrante Santander, occhio, Santander, meno male, che è più lento, di un paracarro armeno, Craici, in mezzo, e va a chiudere, il Chiara, Zappino, no, e poi a parte Zappino, non c'è in questa formazione, credo che fosse Williams, magari, chi lo sa, non lo saprò mai, calcio d'angolo, Bologna, occhio, allontaniamo, sì, bravo, Insigne, fa volare Orsolini, il grande ex, può avanzare, a spazio, a spazio, avanza, avanza Orsolini, avanza sempre lui, Simi, si porta via l'uomo, Orsolini a giro, niente da fare, e dico, solo a me non funzionano, se dire a giro, anche se segnare da lì, non è semplice, e vabbè, Brezza, verso Stefano Densville, Soriano, Calabresi, Dominguez, Tomiasu, comunque, ha dei giocatori molto interessanti, il Bologna, e anche in sede di mercato, andremo, un attimino a spulciarli, perché se non è, c'è qualcuno, che possiamo andare a prendere, Baie, Tomiasu, ancora per, Baie, viene fermato, però brevissimo, Insigne, vede, lo scatto di, Juan Cosimi, fa volare tra ore, che però non ha la velocità, ovviamente, oddio santo, se lo prendevamo, peccato, vabbè, è finita, basta, basta, spazzola, dai, dai, che così fischia, 0-0 a primo tempo, c'è ancora tutto il secondo, 49-51, tre tiri del Pescara, 0 in porta, però per entrambe le compagini, vediamo se nel secondo tempo, si, potranno, manifestare più emozioni, Calabresi, Taylor, occhio qua, brutto errore del Bologna, Orsolini, niente da fare, Yusupov, ancora lui, sembra per Orsolini, nulla, 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 Simi, puttio, oddio Orsolini, ti prego, Orsolini, Orsolini, la finta, no, ma poi non ci cascono mai, ma che è sta cosa, porca miseria, porca, e che palle, vabbè che difficoltà massima, però, eh, una volta ogni tanto, cascateci su ste finte, se no uno che le fa fa, niente, Williams va a combattere, Dominguez, adesso il Bologna riprova, con Baye, che passa, ma Sciangelo, Santander, meno male, che sono bravi, insigne, oddio, Simi, Simi, Yusupov fa volare Orsolini, Dikes, guardate che indecisione che aveva, però giustamente, tanto sa che la va a prendere uguale, quindi, perché sforzarsi, di, di scattare, quando lo può prendere dopo, no, Dikes, ancora, una partita che si accende improvvisamente, ma Sciangelo è tua, bravissimo, Traore, bravo, insigne, ancora per Traore, centralmente, Simi, guardate che, scambi perfetti del Pescara, Simi, si gira, Yusupov, di prima, verso Orsolini, che può andare sul fondo, può metterla dentro, va bene, riesce a tenere palla, Yusupov ancora, niente, mamma mia, mamma santa, a roglio di testa, senza perdere tempo, Yusupov, Traore, torna indietro, da Oriol Busquets, non troviamo spazi, non troviamo spazi, non troviamo spazi, ma Sciangelo, Traore, Yusupov, Oriol Busquets, eh, niente da fare, niente da fare, guardate, in quanti si aiutano, sono in dieci, dietro, solo Santander, c'è qua davanti, poi tutti dietro la linea della palla, incredibile, e Krajci sul pallone, ma porca paletta, però, Krajci sul pallone, Dijks, bravo, Luperto, bravo, Luperto, Orsolini, ripartiamo ancora una volta, verso Simi, all'indietro per Oriol Busquets, può provare il lancio, che non arriva, oh, attenzione però, arbitro, ah, bravo, Insigne, dai, veloce, 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 bravo, Masciangelo di prima ancora per Insigne, l'1-2 con Traore, all'indietro per Oriol Busquets, che può impostare, si allunga troppo il pallone, maledetto Busquets, ma c'è Luperto, che stiamo facendo esattamente, cosa sto vedendo, Calabresi, mancano 12 minuti, Stefano Densville, per Calabresi, Taylor, allarga, Tomiasu, Baye, ancora per Tomiasu, il lancio, a trovare Santander, Araujo, meno male che, ha sbagliato l'aggancio, Yusupov, Semi, fa volare Orsolini, niente da fare, non riusciamo a sfondare, Dominguez, Santander, no, 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 Santa per un soffio, ecco, ho sbagliato io, ho sbagliato io a farlo partire, a farlo andare, ha fatto una bella finta, Craici, l'altro, torna, Perché siete tre, che sono due Mannaggia voi, ignoranti Mattia Destro Tutti, no, Destro no, ragazzi Va bene farsi segnare da qualsiasi persona Ma da Destro? No, sinceramente Con tutto il bene che io voglio Taylor Tomiyasu Densville Kraishi Bravo, Traore Non era per lui, non era per lui Due minuti Arruio, Traore, Veloce Simi, oddio il taglio Per Insigne Può vedere Orsolini, mamma mia Che peccato Che è finita? Vabbè, un altro 0-0 Ce lo giocheremo al ritorno, ragazzi Questa era Coppa Italia, quindi non va a inficiare Sulla classifica del campionato, ovviamente Tre tiri totali per il Pescara Zero in porta È molto, molto complesso riuscire a passare La CPU si chiude Veramente al riccio E riescono poi a ripartire Velocissimamente, quindi È sempre piuttosto complesso Trovare spazi Ma ce la faremo E diciamo che secondo me Non abbiamo La squadra Adatta Per questo livello di difficoltà Siamo ancora Con una squadra Più Più adatta A livello di difficoltà Campione Non superstare Però Ci arriveremo Ci arriveremo Tiocchi e messaggi arrivano Osservazione Insigne Cambio di ruolo Scognamiglio L'abbiamo mandato E Gestione squadra Osservazione Tiocchi ha trovato 70 Solo portieri Trova questo Ma c'è anche Assalè Che però Una punta 76 Potrebbe andare A sostituire Simi Ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Il prossimo episodio Vedremo Il ritorno Contro il Bologna E poi andremo Contro il Via Reale Quindi Scontro Veramente importante In Europa League Quindi Un commento Un bel like Come sempre Vi voglio bene Noi ti vediamo Domani Con dei nuovi Fantastici video Ciao